Ha tradito un po' le attese la gara del Vincenzo Savini, nel senso che lo 0-0 finale è maturato al termine di una sfida con poche emozioni, nonostante si affrontavano le due formazioni che, a detta di molti addetti ai lavori, praticano il più bel gioco del girone. Ed invece la Sangiustese di fatto non si è mai fatta vedere dalle parti di Monti, mentre il notaresco ha creato ma non concretizzato. Non molto per la verità, ma ai punti avrebbe di certo meritato la vittoria, soprattutto per il forcing finale. Il tecnico notareschino Cudini, uno dei tre ex del confronto, deve rinunciare allo squalificato Minella e dall'infortunato Cancelli, ma ritrova Fabriani e Dalmazzi sulla linea difensiva. Candellori avanza quindi sul fronte offensivo. Tra gli ospiti, l'ex Avezzano Cerone supporta l'avanzato Cheddira. Particolarmente elaborata la fase di studio, nel senso che non si registrano emozioni fino alla mezz'ora, anche se per pressione e gioco si fa preferire di certo il notaresco, che sfiora la marcatura proprio allo scoccare del minuto 30, quando un'azione caparbia porta alla conclusione bontà, ma Chiodini si fa trovare pronto e blocca a terra con un balzo alla sua destra. Gli ospiti fanno fatica a costruire palle gol con Monti, che per tutto il primo tempo non deve mai intervenire. Si arriva al minuto 41 per vedere un'altra palla gol e a costruirla sono sempre i padroni di casa, con Rucci che pesca in area Moretti, che però controlla male e si fa chiudere dall'attenta retroguardia marchigiana. La prima frazione in pratica è tutta qui, ma il match resta bloccato anche nella ripresa, almeno fino al minuto 24, quando si registra l'esordio assoluto in Serie D del classe 2002 Alexander Gogo, della categoria allievi. Ed è proprio un velo del giovane virgulto rosso-blu, che favorisce l'occasione del minuto 32, con Moretti che si invola verso la porta, ma Scogna Miglio lo chiude in angolo. Al 39esimo ancora notaresca in avanti con Moretti, che apre per Candellori, il cui diagonale termina debole sul fondo senza che Sieno, sul secondo palo, possa intervenire. Nei minuti conclusivi sale ancora di più la pressione dei locali, e dal 41esimo è ghiotta la palla gol con Moretti, che va per vie centrali e conclude, parata dell'attento Chiodini, con la possibilità anche di aprire sulla destra per il liberissimo Gogo. Non accade più nulla fino alla fine, ed il triplice fischio del direttore di gara sancisce lo 0-0, che fa scivolare gli uomini del presidente Di Giovanni al quarto posto, in coabitazione con il Pineto, dietro la Re Canatese.